Bernardo Barenghi, bentornato, la Iena della stampa, tu che idea ti sei fatto? Tanto forti sui numeri, però questa discussione incomprensibile e per di più la difficoltà di trovare dei candidati nelle città. Oramai ogni settimana raccontiamo dei vertici che finiscono con fumata nera, fumata grigia. Sì, intanto direi che, al contrario di quello che disse Andreotti, che disse che il potere logora chi non ce l'ha, invece da molti anni ormai assistiamo al fatto che il potere logora chi ce l'ha, tant'è che chi va al governo poi dopo perde sempre le elezioni successive, l'abbiamo visto in questi ultimi 30 anni. Quindi la Lega, in particolare la Lega, paga il fatto di stare dentro il governo Draghi, però a non riuscire a incidere più di tanto. Quando stava più all'opposizione e invece riusciva alzando la voce, gli immigrati, la flat tax, eccetera, eccetera, a guadagnare consensi. Cosa che sta facendo la Meloni, come diceva Vittorio Feltri, bene, lo fa bene, perché fa un'opposizione dura, ma anche non becera, e poi ci apre i dialoghi, è stata con Draghi qualche settimana fa, è uscita dall'incontro tutta contenta dell'ascolto che il Premier le ha concesso. Ora avrebbero il 48%, allora a me verrebbe da dire, ma non la dico, ma ridendoci su, che quindi vuol dire che il 52% degli italiani non è di centrodestra, potrei dirla così, ma sarebbe facile perché invece questo è sbagliato, perché poi quando si va alle elezioni chi prende una percentuale tale vuol dire che ha vinto e che governa. Però in ogni caso metà del paese non voterebbe centrodestra. Dall'altra parte c'è una situazione imbarazzante, perché potrebbero fare una coalizione PD, 5 Stelle di Conte, poi chi ci vuole stare ci sta, invece non si riesce, quindi uno sta al 19%, l'altro al 16%, 15%, Conte non si sa chi sia, non si sa cosa voglia, è un po' come è diventato Premier per caso, ora è diventato leader dei 5 Stelle per caso, e infatti leggevo sui giornali di oggi che i PD si stanno lamentando di questo monte che non si sa che cosa voglia. Allora, Marenghi, hai messo sul piatto tante questioni riassumibili nella formula, le contraddizioni delle due coalizioni e tra poco ne parliamo.